Chicco e Peppe! Buongiorno! Dottor Baldo! Caro collega! Ecco, collega è una parola molto grossa, Peppe, però se tu la vuoi usare... Un saluto a tutti i nostri fax che ci stanno! No, fans! Fan! Peppe fan, non fax! Ci mandano via prima di essere arrivati! Radio Basho Basho, un successo incredibile! Che sarebbe la scopiazzatura di Radio Kiss Kiss! Non so se ce l'ete copiato voi! Ecco, a dire il vero non lo sappiamo! Bisogna sentire la CIA e vedere i co-privater di chi sono! Il copyright, non co-privater! C'hai qualche problema con la lingua inglese! Quale cosa avete preparato per oggi? Abbassagli il microfono che non ci arriva! Esatto, il problema ce l'abbiamo inverso! Poi si è trovato un partner, Chicco, che è impossibile! 1,60 o 1,90? C'è una via di mezzo o no? 1,60 sei stato gentile! Un regalone! Allora, c'è vivo, c'è l'esubero pure mi pare! Di quanto? Di qualcosina! Andiamo! Ah, dobbiamo parlare di un argomento serio! Io volevo trattare oggi una rubrica nuova e chi storpia! Mamma mia! Perché oggi Radio Basho Basho presenta questa rubrica nuova! Parliamo dei fillers, Steffi! Cosa sono? I fillers sono sostanze che vengono iniettate nella pelle per correggere gli inestetismi del viso! No, tu non ne hai assolutamente bisogno! Ed in particolare per rallentare i segni dell'invecchiamento! Tipo il... come si chiama? Il botulino! Il botulino! Questa è un'innovazione! Filler ci porta a... A thriller! Abbiamo parodiato! Thriller di Michael Jackson! Avresti potuto fare anche questione di feeling! Di filler, esatto! Abbiamo scelto thriller! Mamma mia! Dai, dai! Non oso! La canto, la canto! La canti tu? Ma la canti con la base o a cappella? No, 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 ho portato pure la base che mi ha dato Janet Jackson, penso! Sì, in persona! Che è alta come te, dunque, non dobbiamo sapere! Va bene, dai, sentiamo! Già, la brividisco, guarda! Perché invecchiare è bello, diciamolo, dai! No, è vero! Abbiamo immaginato questa situazione! Sentiamo! Ho 70 anni e la pelle invecchia più che mai! Bravo! Non glielo dire! E la mia faccia voglio in qualche modo riparar, come si fa, le rughe stanno prendendo il sopravvento, so dove andare, e per ingiovanirmi proverò ad iniettar nel viso il filler, filler dai! E vi saluto rughe in estetismi della pelle, filler, filler vai! Con una bassa spesa sarò bello, bello, bello vedrai! Finale! 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 Mancava l'urlo tipico! Ah, la risata! Posso? Aspetta, me la fai rifare la risata? Ah, la risata! Filler! Bah bah bah! Incredibile! Vieni, Rodrigo, vieni! Bravo, bravo, Peppe! Grazie, grazie! Grazie a Chico, grazie a Dottor Balbo, un saluto a tutti i fax! Sì, che sono all'ascolto, per favore!